E' intervenuto Marco Piagentini, sopravvissuto alla strage nella quale ha perso la famiglia per calmare gli animi. Ma fortissime sono state ieri sera le contestazioni al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che sfilava con la fascia tricolore nel corteo in ricordo del disastro ferroviario del 29 giugno 2009. Il motivo è la rinuncia del comune a proseguire come parte civile nel processo di appello bis a Firenze a seguito di accordi risarcitori, 200.000 euro, pattuiti con le assicurazioni. Il corteo è partito alle 21 dalla piazza davanti al comune di Viareggio, nonostante i familiari delle vittime non avessero invitato nessuno dell'amministrazione comunale. Alle 23.48, come ogni anno, i 32 rintocchi della campana alla Casina dei Ricordi, luogo della memoria della strage e la lettura dei nomi delle vittime.